Un uomo di 33 anni a Melfi, in provincia di Potenza, ha sparato alla moglie di 27 e poi si è suicidato. Il fatto è venuto nell'abitazione di famiglia. Secondo quanto si è preso, l'uomo era una guardia giurata. Sull'episodio sono in corso indagini e accertamenti da parte dei carabinieri del comando provinciale di Potenza. Si trattava, dicono i conoscenti, di una coppia apparentemente serena. Il matrimonio è stato celebrato circa un anno e mezzo fa. Lui, Antonio Girardi, 33 anni, di Melfi, lei, Marina Novozilova, 27 anni, originaria dell'Est Europa. Non è ancora chiaro il movente che avrebbe spinto Antonio a uccidere con un'arma da fuoco la giovane donna e poi a togliersi la vita con la stessa arma nella loro abitazione del centro storico della cittadina lucana in cui abitavano. Ad allertare le forze dell'ordine sarebbe stato un vicino della coppia che ha sentito degli spari provenire dall'abitazione nella quale sono stati ritrovati i corpi. Sul posto è intervenuta la scientifica dei carabinieri e il magistrato del Tribunale di Potenza, Veronica Calcagno. Sull'episodio sono in corso indagini e accertamenti da parte dei carabinieri del comando provinciale di Potenza.